Maria Corsi Revisore Vi racconterò questa storia, questa storia che è iniziata nel 1988, intorno al 1988, su una spiaggia di un reparto, del reparto di fanteria di marina italiana, dei marins italiani, il battaglione San Marco. Stavo lavorando per la ricerca di mine interrate anti-uomo, per evitare che i nostri uomini, facendo uno sbarco su una sabbia, su una spiaggia, saltassero in aria. Le mine sono non scopribili, sono di materiale plastico. E la tecnologia allora disponibile era estremamente ambigua riguardo la possibilità di scoprire questi oggetti. Oggi sono stati fatti dei passi importanti. Comunque a quell'epoca era una tecnologia innovativa, però anche quella difficile. E questo mi spinse a cercare di individuare, di studiare questo problema da un punto di vista scientifico, diciamo puntuale e preciso, come chiunque si occupi di scienza debba fare. E così mi sono imbattuto in una serie di situazioni stranissime e così via. Poi a un certo punto nel lontano 1992, lavorando ad una tecnologia per la scoperta delle mine e per la scoperta di persone su un terreno scoperto e così via, quindi una specie di radar anti-uomo, mi rendo conto, scopro, che determinate onde radio interagivano in maniera selettiva con i tessuti biologici, in maniera selettiva con i tessuti biologici in stato di infiammazione o seriamente ammalati. Questo è l'inizio della mia storia. Dunque nel 1992 scopro questa cosa e da qui inizia un percorso di ricerca complesso che mi porta poi ad analizzare ciò che era stato fatto negli anni, negli anni fino dai primordi dell'elettronica, delle radiocomunicazioni e così via. Tanti ricercatori, tanti studiosi avevano cercato di effettuare analisi e scoperta dei tessuti oncologici, cosa a cui io ci sarei arrivato, come dicono gli americani, per serendipity casualmente, cosa cercavano di fare? Di caratterizzare tessuti espiantati da un punto di vista elettromagnetico, analizzando conducibilità e costante di elettrica, in parole povere, una biopsia elettronica con mezzi del 1926, quindi vi potete immaginare che cos'erano a quel tempo, forse la radio si chiamava ancora a radio, e quindi insomma le cose non erano semplici. Quello che forse si è avvicinato molto di più è stato un ricercatore tedesco, Danzer, 1934, ma la tecnologia non era pronta. Solo negli anni Ottanta la Duke University, famosa per avere grossi contratti con la difesa, riesce a sviluppare un sistema per analisi dei tessuti oncologici sulla mammella. Anche questo sistema dopo un po' si rendono conto che non è adeguato, non è stabile, non è affidabile, non ha una dinamica molto elevata. Io ci arrivo nel 1992, era autunno, mi era preso un attacco di gastrite micidiale, come quello che tanti di noi possono avere quando lo stress raggiunge le stelle, e dunque è venuta fuori questa tecnologia legata proprio ai telefilm della serie Star Trek. Pensate, il 90% delle apparecchiature per impieghi scientifici è nata, o per impieghi medici, è nata in ambito militare. Abbiamo nel 1948 la prima risonanza magnetica nucleare fatta a Ray Patterson dagli americani per analizzare strutture dei aeroplani. Sarebbe diventata soltanto alla fine degli anni 80 una macchina diagnostica. Negli anni 60 un team di ricercatori della marina americana, ricercatori? No, erano dei sotto ufficiali, stavano lavorando ad un'arma subacquea per far esplodere i tessuti del sommozzatore nemico e si accorgono che, a Cipicchia, questa onda è in grado di interagire con l'interno del tessuto e fare diagnosi. Beh, non è stato molto diverso quello che stavo facendo io a quell'epoca. E quindi inizia questa bella avventura che porta nel 1992 a fare quell'oggetto strano, una grossa siringa, sembra, in grado di interagire con un tessuto infiammato e poi un oggetto più sofisticato, quel cilindro giallo, per arrivare poi nel 2003 alla produzione della macchina industriale, della macchina che poi è stata omologata ed è disponibile oggi per l'impiego ospedaliero, che si chiama poi Trimprobe, fatta da Fimmeccanica, fatta. Fatta su licenza e dopo avergli dato i prototipi. Dunque, guardate, qui ci stanno alcuni esperimenti in laboratorio e i laboratori per fare queste cose sono, gli americani dicono huge, pesano tonnellate. E queste sono le finestre di interazione con i tessuti. La frequenza che a quell'epoca, nel 1992, individuai come frequenza utile per trovare stati infiammatori, la macchina non era ancora in grado di scoprire il cancro, era a 930 MHz, è esattamente in mezzo alla banda dei telefoni cellulari, è in grado di sentire perfettamente gastriti, ipertrofie della prostata, infiammazioni noduli della tiroide, eccetera, eccetera, ma infiammazioni generiche anche come un attacco cervicale e così via. Ma la cosa più sorprendente sarebbe stata l'impiego della prima riga spettrale, la riga fondamentale. Ecco, qui vedete due plotting della macchina diagnostica. E perché? Perché avviene una cosa molto particolare nel nostro organismo. Quando i mitocondri si degradano e i microtubuli perdono la loro elasticità, incominciano a vibrare su queste bande di frequenza. E questa banda di frequenza è la banda di frequenza su cui lavora il bioscanner. Questo è relativo, sotto troverete, una pubblicazione scientifica, l'ultima che abbiamo fatto con l'Accademia delle Scienze di Praga. Questo effetto di assorbimento selettivo, 462-465 MHz, per un tessuto oncologico, non si riscontra assolutamente sul tessuto sano. Guardate, ecco, questa è la spettrometria di un carcinoma gastrico. La prima banda, vedete, è stata depressa. sparisce dallo schermo dell'analizzatore. Questo è sempre la macchina ospedaliera. Qui abbiamo, nel 2001, l'inizio delle sperimentazioni cliniche, perché ovviamente una macchina clinica deve essere sperimentata, validata, omologata, e poi validata scientificamente per l'impiego operativo negli ospedali e così via, non solo nell'impiego sperimentale in ambito di cliniche o di centri di ricerca, che ne so come l'Istituto dei Tumori di Milano. Guardate, la sensibilità è del 94%, mentre la specificità è del 92%. Un ecografo, il miglior ecografo, non arriva al 50%, dati pubblicati sulle riviste internazionali, naturalmente. Ecco, guardate, questo è l'impiego del sistema, se mi passi la sonda. Questa è la sonda che oggi si usa negli ospedali e che ne fanno impiego di questa. Ecco, questo è per esaminare la prostata. La macchina, naturalmente, lavora anche per la vescica, così come per lo stomaco duodeno, un lavoro che abbiamo fatto presso l'ospedale militare di Taranto, è molto facile da adoperare. Si va sull'antrogastrico, si esplora e si vede la spettrometria. Se una delle tre righe si abbassa, noi siamo in grado selettivamente di dire è una gastrite, è un'ulcera, è un carcinoma. E la riga del carcinoma è lontanissima dalle altre, non può essere confusa. Un test a bordo delle navi militari, altre prove sempre all'ospedale di Taranto, una sperimentazione clinica sulla mammella fatta all'Istituto Oncologico Europeo, ha portato poi ad una pubblicazione sulla rivista Tumori. Anche qui, sensibilità e specificità 84-75%, 80% di accuratezza di un esame. E questa macchina è in grado di vedere anche mammelle dense di persone giovani, cosa che invece la TAC non è assolutamente in grado di fare, la mammografia. Una sperimentazione sulla vescica fatta a Lecce, presso l'Istituto di Urologia, risultati straordinari, sensibilità 98% e specificità 91%. Questi esami, quando si fanno, è perché una persona ha delle emorragie e sono esami molto invasivi e dolorosi, io li ho seguiti in corsia e non mi ci sottoporrei facilmente. Invece con questa macchina invasività nulla. Anche per la prostata si fanno esami transrettali, anche questi estremamente sgradevoli per gli uomini. Che cosa dice, in sostanza, il dottor Leucci? I pazienti, specialmente gli anziani, si sottopongono volentieri a fare l'esame con il bioscanner. Dopo, se qualcosa avviene, se ci sono dei target oncologici rilevanti, non hanno problemi a sottoporsi ad altri esami. Le certificazioni del Ministero della Salute e così via, la macchina chiaramente è in circolazione in Europa, un lavoro importantissimo sui tumori del retto fatto dall'Istituto dei Tumori di Milano, 2009-2010, pubblicazione effettuata su rivista internazionale, i risultati straordinari. Il gruppo di Vannelli sostiene che questa macchina sarebbe perfetta per fare screening del tumore del retto, perché è assolutamente non invasiva, ma è estremamente precisa nei risultati rispetto all'esame del sangue occulto, che ha una specificità minima. Alcune pubblicazioni di biofisica le troverete anche sul mio sito internet oppure digitando bioscanner, bioscanner.it. Questa è relativa alla settimana scorsa, un'immagine a Praga. La diffusione. Bene, la diffusione è abbastanza vasta in giro per il mondo. Ci sono una cinquantina di ospedali italiani che impiegano la macchina, poi ce ne sono in Iran o addestrato anche un medico ad impiegarla. È stata validata dal Ministero della Difesa brasiliana per l'impiego nelle forze armate, Malesia, Giappone, Turchia, Francia, Belgio, Svezia. Qui abbiamo i risultati come accuratezza dell'esame. In alcuni casi raggiungiamo il 100%, in altri casi il 72%, eccetera, eccetera, il 93%, dipende anche molto dalla capacità dell'operatore, ovviamente, come in tutti gli esami. Troverete un ecografista bravo, troverete un ecografista incapace, capita. In sintesi, è una tecnologia per la vita immediatamente disponibile, cinque minuti il test, non è invasiva, non fa male, si può ripetere quante volte si vuole, è immediata nella risposta, è poco costosa, è facile da usare con un operatore addestrato, ampiamente validata da pubblicazioni scientifiche. e qui bisogna fare un attimo, abbiamo ancora un minuto, sì, perché questa macchina adesso non si produce più. Finmeccanica che la produceva receduto dal contratto, era sua possibilità, perché non era considerata strategica per il gruppo, ovviamente Finmeccanica è un'industria della difesa e non si occupa giustamente di salute, e ha trovato un sacco di difficoltà a fare entrare questo sistema nei servizi sanitari, specialmente qui da noi. Ecco, questo è un lato meno gradevole di tutta la situazione, però noi andiamo avanti lo stesso, lo dimostra il lavoro fatto a Praga la settimana scorsa, con una pubblicazione molto importante, e poi c'è sempre un aspetto importante, quello della speranza, della speranza della vita, della speranza di una miglior qualità di vita, impiegando una tecnologia che si vede nei film di Star Trek, perché questa macchina, che si chiama Trimprobe, è l'acronimo di Tricorder Medical Probe, ed è esattamente il Tricorder dei telefilm della serie Star Trek, quello che si adopera sull'astronave Enterprise. Grazie. 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 Grazie per la visione!